Italia, italiani e italianerie, il podcast di Oliukenitaly in cui esploriamo tutto quello che ha a che fare con la lingua, la cultura e le curiosità del bel paese. Oggi parliamo di nomi e cognomi. Italiani, nomi e cognomi di un popolo. Ciao, come ti chiami? Ciao a tutti e benvenuti nel nostro podcast dedicato alla cultura italiana. Oggi ci immergeremo nell'affascinante universo dei nomi e cognomi italiani, esplorando le tendenze attuali, le origini storiche e alcune curiosità interessanti. I nomi maschili più ricorrenti dettati dalla tradizione religiosa erano un tempo tre. Giuseppe, Giovanni, il più frequente in Europa dal Medioevo al XX secolo, anche mio figlio si chiama Giovanni, e Antonio, il santo più amato dal popolo. Nel secondo ottocento erano assai comuni anche Carlo, Luigi, Augusto, Cesare, Pietro, Enrico, Francesco, prevalentemente al nord. Mentre prevalevano al sud Vincenzo, Pasquale, Raffaele, Salvatore, Angelo, Domenico e Gaetano. Con l'unità d'Italia ebbero fortuna anche i nomi dei Savoia, quindi Vittorio, Emanuele e Umberto. E i nomi di moda di fine secolo e prime novecento furono invece Mario, Giulio, Alfredo, Renato, Guglielmo. E per le donne? In campo femminile Maria ha dominato nel Medioevo fino all'ultimo decennio del ventesimo secolo. Ma nelle città più popolose del centro nord, la moda ha imposto via via anche altri nomi. Nell'ultimo quarto dell'ottocento e nel primo terzo del novecento sentiamo nomi come Emma, Elvira, Margherita, Teresa, Rosa, Giulia, Ines, Iole, Fernanda, Ada e Marcella. E dopo il 1920 un grappolo di nomi in Ana, ossia Luciana, Rossana, Liliana, Silvana, Adriana, Giuliana. Negli anni 30-40 hanno trionfato i nomi doppi, in particolare Anna Maria, Marisa e Maria Luisa. Nel secondo dopoguerra troviamo tantissime Franca, Rita, Carla, Patrizia, Daniela, Paola, Stefania, Barbara, Cinzia, Marina, Simona, Emanuela, Monica, Sabrina, Silvia, Claudia, Alessandra. E poi dagli anni 80 Valentina, Federica, Marina, Giorgia, Alessia, Jessica, Chiara, Sara. E primo in assoluto in Italia negli ultimi 15 anni Giulia, ora scalzato da Sofia e Aurora, accanto ad alcuni sempreverdi come Laura, Elena, Anna e Francesca. Un tempo la scelta del nome aveva motivazioni religiose e soprattutto familiari, il nonno, il padrino, lo zio, talvolta ideologiche. Nomi come Leonardo, Francesco, Sofia e Giulia, sono diventati estremamente popolari, forse influenzati anche da figure storiche o celebrità contemporanee. Ci sono anche nomi che sembrano ormai caduti in disuso, nomi come Gino, Ennio, Elsa ed Elda, che una volta erano molto diffusi ed oggi sono rari nelle nuove generazioni. cambiamento potrebbe essere legato all'evolversi delle tendenze e dei gusti personali, ma anche alla volontà di cercare originalità e unicità nella scelta dei nomi per i bambini. I cognomi sono come una sorta di biglietto da visita che portiamo con noi, ma da dove vengono e che storia raccontano? Dovete sapere che in passato, nella Roma Antica, esisteva già un sistema di nomi personali e familiari per distinguere le persone. Un primo registro di nomi esisteva già in età romana. I cittadini venivano segnati con un prenomen, cioè il nome personale, per esempio Caio, e con l'indicazione della Gens, cioè della famiglia di provenienza, Giulia, per esempio. Tuttavia, quando diventarono troppi gli omonimi con lo stesso nome e cognome, fu introdotto un cognomen, ossia un soprannome distintivo. Ad esempio, Cesare potrebbe significare colui che ha gli occhi chiari. Ma perché non abbiamo conservato i cognomi romani? Semplice. Dopo la caduta dell'impero romano, i registri ufficiali andarono distrutti. Solo in seguito, intorno al X-X secolo, quando la popolazione crebbe, si rese necessario per motivi pratici e legali, diffondere l'uso del cognome. Questi cognomi potevano derivare da caratteristiche fisiche, oppure essere soprannomi o nomi di luoghi, mestieri, o persino derivare dal nome del padre. Nel 1564, l'uso del cognome divenne obbligatorio in Italia, richiesto dai registri battesimali delle chiese. Oggi, i cognomi raccontano la nostra storia familiare. Alcuni sono chiaramente comprensibili nel loro significato originario, altri potrebbero aver subito modifiche nel tempo. Studiando il linguaggio dei cognomi, possiamo persino individuare la provenienza geografica di una famiglia. Ad esempio, lo stesso mestiere, come quello di Fabbro, ha generato cognomi diversi nelle varie regioni italiane. Ferrari, Ferrario, Ferreri, al nord. Fabri, Favero, in altre zone. E Forgione, al sud. Se ti incuriosisce sapere la diffusione di un cognome, esistono strumenti come Cognomix, che mostrano delle mappe interattive della presenza dei cognomi nelle varie regioni italiane. Ora, alcune curiosità. I cognomi legati alla natura, come cipolla o finocchio, hanno origini celtiche e germaniche, mentre quelli come esposito o trovato derivano dagli orfanotrofi e venivano dati ai trovatelli. Le diverse tipologie di cognomi italiani possono essere raggruppate in varie categorie. Ognuna con una storia ha un significato particolare. La prima categoria, etnici e toponimi. Questi cognomi indicano la provenienza geografica della famiglia o di un individuo. Cognomi di questo tipo sono ad esempio genovesi, spagnolo o mantovani. Categoria dei cognomi patronimici e matronimici. Questi cognomi si basano sul nome di battesimo di un antenato, diventando il cognome per tutti i discendenti. Ad esempio, nanni, menichini e franceschini. In particolare, i cognomi patronimici e matronimici riflettono spesso il nome del padre o della madre, come in cognomi di Giulio, di Martino, di Maria, lo monaco, la franca. Poi ci sono i cognomi augurali e scaramantici. Questi cognomi, spesso nati nel Medioevo, esprimono auguri, ringraziamenti o scongiuri per il neonato, come nel cognome benvenuti, buonavventura o nascimbene. Alcuni di essi venivano dati ai trovatelli, come ad esempio Dio t'aiuti, Dio t'allevi o speri in Dio. Soprannomi. Questi cognomi derivano da soprannomi che riflettono caratteristiche fisiche, intellettuali, comportamentali o azioni occasionali. Possono essere spesso ironici e scherzosi o spregiativi. Di questo tipo sono ad esempio i cognomi rossi, grassi, gobbi, astuti, bruschi, fumagalli, pappalardo o caccialupi. Cognomi di mestieri, professioni e titoli. Questi cognomi indicano appunto mestieri, professioni, cariche, titoli o condizioni sociali, come ferrari, barbieri, medici, giudice, confalonieri, vassallo, capitani, cardinali, piscopi o preti. Ci sono poi nomi classici, storici o letterari. Questi cognomi derivano da nomi di tradizioni latina, greca o francese epico-cavallerisca. Ci troviamo cognomi quali Ercoli, Ottaviani, Virgili, Achilli, Polidori, Tolomei, Lancellotti, Rinaldi o Paladini. Originariamente, diffusi nelle classi sociali elevate, con il tempo si sono estesi anche in ambienti popolari tra Medioevo e Rinascimento. Questi diversi tipi di cognomi raccontano storie uniche ed offrono un'istantanea della storia, delle professioni, delle tradizioni e della società dell'Italia passata e presente. Da chi prende il cognome un neonato? Il primo giugno del 2022 la Corte Costituzionale Italiana ha dichiarato illegittima l'assegnazione esclusiva del cognome paterno ai nuovi nati. A partire dal 2 giugno del 2022, quindi, i neonati assumono automaticamente un doppio cognome, dato dall'unione dei cognomi dei genitori. Il cognome accompagna ogni individuo per l'intera esistenza e non ci crederete ma ne può influenzare la vita sia in modo positivo che negativo. Esso può avere un impatto cioè molto significativo, tanto da compromettere o rendere difficile la vita di una persona. Tuttavia, quello che qualche volta mi sconvolge e che suscita un profondo turbamento, oltre alla gioia, la frustrazione, diciamo, di certi cognomi molto particolari, esistono anche dei genitori che impongono ai figli dei nomi che aggiungono imbarazzo a questi già imbarazzanti cognomi, creando delle situazioni veramente tragicomiche. Questa situazione, che non può essere risolta facilmente se non attraverso un procedimento legale che richiede tempo e denaro, va riflette un sadismo inaccettabile da parte di alcuni genitori. E non sto scherzando, se prendete gli elenchi telefonici italiani, oppure molte foto che trovate persino sui social di campanelli italiani, trovate delle combinazioni nome-cognome veramente da fare arrossire anche il più forte di noi. Insomma, è davvero spiacevole che il signor Mosca, avendo a disposizione una vasta gamma di nomi adatti per una ragazza, abbia scelto di chiamare la figlia Bianca, trasformando così il suo nome in Mosca bianca. Insomma, ci sono molti genitori che non hanno pensato bene, fino in fondo, all'effetto della combinazione fra nome e cognome. O se l'hanno fatto, bah, lascio voi la sentenza. Pensate a questi cognomi che ora vi leggo, che esistono veramente nome e cognome di queste persone che hanno dovuto rispondere così all'appello in classe alle elementari. Parlo di cavallo fortunato, remo la barca, muoio felice, zoccolella immacolata, malinconico addolorata, va con dio serena, assetato bevi l'acqua, rutto celestino, culetto rosa, stanco guido, guido stanco, gustavo la ficca, trombano gina. Insomma, ma questi genitori non ci hanno pensato che quando si dà un nome ad un figlio bisogna anche guardare il cognome? Vabbè, ok. Comunque voi, se avrete mai dei figli, pensateci meglio. Ah, e il cognome più diffuso in Italia? Sapete qual è? Sono sicura che avete indovinato perché è su tutti i libri di testo. Sì, sì, avete indovinato sicuro. È Rossi. E se volete, ora vi do anche l'elenco e la classifica dei primi 20 cognomi più diffusi in Italia. Rossi al primo posto, seguito da Russo, Ferrari, Esposito, Bianchi, Colombo, Romano, Ricci, Gallo, Greco, Conti, Marino, De Luca, Bruno, Costa, Giordano, Mancini, Rizzo, Lombardi e Barbieri. Concludiamo qui. I nomi e cognomi italiani raccontano storie affascinanti che spaziano dalla tradizione alla modernità, mantenendo viva l'essenza della cultura italiana. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questo viaggio attraverso i nomi e cognomi italiani. Continuate a seguire il nostro podcast per sapere tante novità e approfondimenti sulla lingua e sulla cultura italiana. Ricordatevi che la trascrizione di questo podcast, insieme alla spiegazione di sostantivi, espressioni e modi di dire più difficili, la trovate in formato pdf disponibile per i nostri Patreon nella pagina Patreon di All You Can Italy. I nostri Patreon, dal livello cappuccino, sia un contributo di 2 euro al mese al nostro lavoro, possono scaricare tutte le informazioni aggiuntive, il pdf appunto con la trascrizione, di tutti i nostri podcast e anche l'audio senza interruzioni pubblicitarie e molto altro ancora. Vi lascio il link alla pagina in descrizione. Un caro saluto e alla prossima da All You Can Italy.